signori il colpo a mande vito fin del 2001 molto bellino thriller velocissimo che inizia veloce e va avanti velocissimo poi un artemino rallenta ma per i suoi motivi naturalmente fin da vedere consigliato voto 8 nient'altro da dire un grandissimo ac man un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao ciao